Pedro Claudio, vi alzano frate dei miei autristi, per trovare la massa da quello di spazio. Come on, come on, come on, come on. Perché la massa di sicurezza è una massa melodia, non per me. Se ne, per te pe, tu non proprio. Parlele, parlele! Melodia che è in piazza mea. Se ne dicpe che ti fanno in una periodo di dormito, vedo una giornata, sento una, in una giornata per i miei autristi. Sì. Piazza nea, a bimini. Alla prossima O bici ne va rastrata Per mine C'è te do Oh 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 oh, oh 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 Vazi Vod, ce mare-i moga, ca a mhatta și eu pe ea, ambeni мной Grazie a tutti Să nu te limitescă a primi Fata și parea Duhne Deci ei n-avem il genere Ce mai pare avem Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info